Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura l'emergenza coronavirus e il dibattito e le polemiche in Abruzzo sull'uscita eventuale dalla zona rossa in vista delle decisioni della cabina di regia sull'emergenza Covid rispetto alle classificazioni delle regioni che è prevista venerdì. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio nel corso di una conferenza stampa che ha esposto i contenuti della legge sugli impianti sciistici non ha lesinato critiche al governo, in particolare al ministro della salute Speranza. L'Abruzzo si appresta, almeno queste sono le indiscrezioni, fino ad ora ad essere l'unica regione a restare in zona rossa, ma il presidente non ci sta e vuole una riclassificazione in base ai dati in tempo reale. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti e poi l'intervista al professor Albani che è a capo della task force regionale sul coronavirus. Vediamo. Mentre continua l'interlocuzione regioni-governo in vista del prossimo DPCM, da varare domani in Abruzzo divampano le polemiche sull'eventuale uscita dalla zona rossa, sempre meno probabile secondo le prime indiscrezioni. Marsilio oggi in conferenza stampa ha criticato la sincronia tra dati reali e passaggio tra le varie zone di rischio. Per il presidente della giunta regionale ci sono già le condizioni per uscire dalla zona rossa. Noi dichiariamo la zona rossa quando i numeri ci dicono che siamo rossi, punto. Non è questione di giocare d'anticipo, in ritardo. Quando vediamo che la situazione è pericolosa adottiamo misure di cautela per riportare la situazione sotto controllo. E' quello che abbiamo fatto. Come ho dimostrato con i numeri, è vero, c'è l'incremento del posti letto in ospedale rispetto all'inizio della zona rossa, c'è stato, però i dati degli ultimi giorni mostrano una curva in discesa, una curva che si è stabilizzata e che comincia anche a scendere sugli ospedalizzati complessivi e nel frattempo, oltre a stabilizzarsi e a cominciare a dare qualche primo timido segnale di diminuzione, abbiamo, come ho raccontato prima, incrementato di circa 200 i posti letto disponibili, il che rende il sistema più resiliente. Stiamo in via di completamento alcuni lavori, nelle prossime settimane potremo continuare a consegnare nuovi posti letto negli ospedali pubblici in base al potenziamento della rete Covid e quindi questo ci fa dire di poter fare una moderata apertura, perché poi passare da zona rossa ad arancione non è che cambia il mondo, si torna a scuola a seconda e terza e media e magari possiamo discutere con il nostro comitato tecnico se tenerle chiuse fino a Natale e fare la riapertura delle scuole tutte dopo le ferie, perché un provvedimento più restrittivo, a metà strada lo possiamo comunque fare, io non posso fare provvedimenti meno restrittivi, cioè se il ministro Speranza vorrà continuare a tenerci in zona rossa io non ho il potere di modificare quella decisione. Sempre in vista delle festività natalizie si è aperto anche il fronte relativo all'economia montana e agli impianti di risalita. Nonostante le pressioni delle regioni dell'arco alpino alle quali si è aggregata la regione Abruzzo, il governo si appresta a fare stare chiusi gli impianti sciistici a Natale, aprendo così la partita dei ristori. Nel frattempo la regione Abruzzo ha varato una legge sugli impianti di risalita e sulla gestione dell'emergenza, dove ci sono anche aiuti, per 3 milioni di euro. La legge è stata approvata all'unanimità, dando quindi l'esempio di unità verso una direzione ben stabilita. Volevo aggiungere a quanto detto dal Presidente Marsilio un aspetto molto importante di questa legge, cioè quella della sicurezza anti-Covid, perché sia nei finanziamenti che verranno dati ai gestori degli impianti, ma anche ai finanziamenti che verranno dati alle scuole sci, ma anche agli affitta sci, sono previste delle quote che servono proprio per migliorare la sicurezza Covid. Ad esempio nelle scuole sci avranno a disposizione 3 mila euro a scuola sci, oltre quello che verrà poi per altri problemi, ma dedicati esclusivamente per la sicurezza Covid. Perché la pressione sugli ospedali è ancora alta, sia a livello di terapie intensive che a livello di reparti Covid. Stiamo vedendo proprio in questi giorni un abbassamento dei numeri, come diceva lei, dei numeri di contagi a livello della regione Abruzzo, ma questo abbassamento si ripercuoterà più lentamente sugli ospedali, perché l'andamento è circa spostato di due settimane fra il tempo delle infezioni e il tempo dei sintomi. Per cui questi primi risultati della zona rossa che si stanno vedendo con l'abbassamento dei positivi, si rifletterà sugli ospedali con circa 14 giorni di ritardo. Stiamo adesso vedendo anche sugli ospedali, comincia a esserci anche qui un rallentamento, ma è più lento rispetto a quello che è a livello del territorio, proprio perché ci sono queste due settimane di latenza. Noi speriamo, ci auguriamo, e dai primi dati che stiamo elaborando sappiamo che ci sono 21 parametri con cui tiene conto il Ministero, molti di questi parametri sono rientrati all'interno del range di pseudonormalità, per cui noi speriamo che nei prossimi giorni possiamo uscire dalla zona rossa e rientrare nella zona arancione. Noi lavoriamo tantissimo giorno e notte, in condizioni veramente pesanti, perché io vorrei invitare qualche volta la televisione, purtroppo non possiamo farla, a vedere in che condizioni lavora il personale sanitario, in cui colgo l'occasione per ringraziarlo tutto, con tute, maschere, abbiamo anche difficoltà a volte per l'alimentazione, anche di un semplice caffè che potrebbe essere un attimo di ristoro, proprio perché abbiamo la necessità di accudire questi pazienti in protezione e in sicurezza. Quindi noi non facciamo altro che rinnovare continuamente la pelle alla popolazione che se nei periodi di Natale, noi ci auguriamo, possiamo tutti riprendere una pseudo attività normale, di non scordarci di quelle che sono le condizioni di sicurezza, che sono, ripeto, poche e poche, perché l'uso della mascherina, un distanziamento sociale, il lavaggio spesso delle mani non mi sembra un grosso sacrificio, ma queste piccole avvertenze, queste piccole attenzioni risparmiano sul mondo sanitario una pressione fortissima. Ringrazio tutta la popolazione che ha contribuito a diminuire la pressione sui pronto soccorso per quanto riguarda i pazienti cosiddetti politici e non Covid, mentre la pressione Covid è ancora alta e, come dicevo prima, scenderà più lentamente. E insomma tutto ruota attorno al Natale, non soltanto dal punto di vista dell'organizzazione familiare, ma anche e soprattutto dell'economia e del commercio. Noi siamo andati con Giuseppe Dintino questa mattina in centro a Pescara, abbiamo fatto un giro dei negozi, alcuni ancora chiusi, ma che stanno allestendo le vetrine in vista di una eventuale riapertura. L'appello è quello a farli lavorare, almeno questo dicono i titolari delle attività. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Se chiudono i negozi, che cosa rimane di questa città? Siamo a Pescara centro, mancano poco più di 20 giorni a Natale, sono già state posizionate le luminari, alle mie spalle vedete l'albero del comune quasi completamente allestito e anche nelle vetrine dei negozi ci compaiono i primi addobbi. I commercianti si stanno preparando alla riapertura. Ci stiamo preparando, sperando di riaprire il prima possibile, stiamo riallestando tutto il negozio, con gli addobbi natalizi, nuovi arrivi, eccetera, per prepararci i regali di Natale. Siamo chiusi da quasi un mese ormai, per cui veniamo qui la mattina, facciamo foto, storie, insomma, cerchiamo almeno di vendere online, che fortunatamente riusciamo a fare qualcosina, ma non è mai il negozio aperto ovviamente, anche perché abbiamo tutto questo negozio così grande e così bello che è un peccato. Ci auguriamo che riaprano, ovviamente noi adotteremo tutte le misure necessarie per evitare il sovraffollamento, però ci aspettiamo di diventare almeno zona arancione. Le prossime ore saranno decisive per determinare quando si potrà riaprire. I dati della seconda ondata in Abruzzo arrivano oggi sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico e su quello della cabina di regia ministeriale. Domani il colloquio tra il presidente Marsilio e il ministro Speranza. La regione aveva anticipato il governo di due giorni per quanto riguarda l'istituzione della zona rossa in Abruzzo. Adesso vorrebbe tornare zona arancione a partire dal 4 di dicembre. Occorrerà però attendere il via libera del ministro della salute Speranza, che potrebbe far tornare l'Abruzzo in zona arancione a partire dal 10 di dicembre. Se fosse il 10 sarebbe troppo tardi? Sarebbe troppo tardi, sicuramente, perché comunque perdere il ponte dell'8 di dicembre sarebbe un danno enorme per tutti i negozi. Sarebbe tardi perché saltiamo anche l'Immacolata, che l'Immacolata solitamente c'è chi compra e inizia a comprare regalini per Natale, chi inizia a fare un giretto nei negozi, ha voglia di comprarsi quel vestito nuovo, quella gonna nuova. Poi l'importante è che ci fanno aprire. Noi speriamo nel 4, se poi dovesse essere il 10, pazienza. Ma io penso che tanto appena riapriremo le persone avranno voglia di uscire, di comprare, di andare nei negozi a fare i pensieri. E mentre si decide del futuro dell'economia abruzzese, i commercianti, come abbiamo visto, si sono reinventati con lo shopping online principalmente, anche perché intanto alle spese di gestione, zona rossa o non zona rossa, bisogna comunque far fronte. L'assurdo è che comunque noi abbiamo un negozio anche di fronte dell'adulto e praticamente siamo chiusi. Siamo chiusi e questo comporta un danno pazzesco. Abbiamo tre persone in cassa integrazione e poi a oggi praticamente noi ancora non sappiamo quando riaprire. Ed è assurdo tutto questo, il Natale è arrivato e per noi è un danno troppo, troppo grande che non riusciremo mai a recuperare. Un'azienda che ha una spesa mensile di milioni, perché comunque gli affitti si devono pagare, il personale bisogna pagarlo, quindi contributi, stipendi, tutto quanto, la merce che tu hai acquistato ed è invenduta e che ti rimane dentro il negozio, cioè questo chi lo paga? Lo Stato non ci ha dato nulla. Neanche uno degli aiuti promessi è arrivato? Nulla, assolutamente nulla a oggi. Noi personalmente non abbiamo visto niente. Andiamo avanti, voltando pagina e parlando dei test sierologici nelle farmacie. Sono disponibili da ieri, anche se alcune farmacie si stanno ancora attrezzando per effettuarli. La campagna voluta da Regione Abruzzo, Federpharma e Assofarma dovrebbe servire anche a garantire un quadro più completo rispetto all'andamento del virus nella nostra regione. Sentiamo Stefano Recanati. Alvia, la campagna che prevede l'esecuzione di test sierologici nelle farmacie abruzzessi. L'iniziativa è frutto di un accordo sottoscritto tra Regione, Federpharma e Assofarm. Il test in questione, che verrà eseguito su base volontaria, è quello sierologico, con ricerca anticorpi IgM, quelli che compaiono nella fase iniziale, a pochi giorni dall'esordio dei sintomi e tendono poi a sparire abbastanza rapidamente, e anticorpi IGC, che compaiono un po' più tardi rispetto all'Igm, ma durano molto più a lungo. Avranno diritto all'esame gratuito il personale docente e non docente, gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori, oltre ai loro familiari conviventi e gli studenti universitari residenti in Abruzzo. Il costo è di 15,58 euro per chi non rientra tra queste categorie. I soggetti dovranno dichiarare di appartenere a tali categorie con apposita autocertificazione. I risultati saranno inseriti direttamente dai farmacisti nella piattaforma ATRA della Regione, nella quale confluiscono tutti i dati dell'andamento epidemiologico, ad aderire circa il 60-70% delle farmacie della nostra Regione. I test sierologici saranno effettuati solo previa prenotazione. Con questo test infatti possiamo vedere immediatamente se il paziente è entrato in contatto con un potenziale Covid, perché riusciamo a vedere sia le monoglobuline della memoria, quindi se ha avuto un contatto in passato, sia le monoglobuline che vengono invece prodotte immediatamente. Ci vuole qualche giorno per produrre queste monoglobuline, quindi nell'arco di qualche giorno possiamo già vedere se il paziente è entrato in contatto. Come stanno andando questi test? Sono arrivate già tante persone? Sì, abbiamo infatti una lunga fila fuori, andiamo su appuntamento proprio per evitare eventuali problematiche di intasamento, ne abbiamo tanti, ne facciamo almeno 10-12 al giorno, anche di più. Diciamo che basta solo un piccola goccia di sangue per avere questa testa? Sì, sì, è assolutamente pratico, veloce, ci vogliono 15 minuti più che altro di attesa, perché facciamo soltanto un pizzico sul dito, quindi adatto anche a bambini piccolini che vanno anche all'asilo, eventualmente se fossero stati esposti a un eventuale contagio, in un attimo facciamo, quindi in un quarto d'ora già si sa la salute del paziente. Adesso andiamo a Teramo, lasciamo il Covid, classificate inagibili dopo il sisma del 2016, decine di case dell'Ater di Colle Atterrato sono abbandonate ormai da 4 anni senza alcun intervento di ristrutturazione, in questi giorni la situazione peraltro si è aggravata per via di furti e danneggiamenti all'interno degli appartamenti, i cittadini e gli sfollati assistono a questo scempio e protestano per la mancanza di controllo e di sicurezza. Ci dice di più nel servizio Tania Bonnici-Castelli. Ma cosa sta succedendo nel quartiere di Colle Atterrato a Teramo, tra le decine di palazzine Ater abbandonate dopo gli ultimi sismi e non ancora ristrutturate? Furti, scassi, vandalismi di ogni genere e occupazioni abusive. Gli sfollati protestano, stanno smontando le nostre case pezzo pezzo senza che nessuno intervenga, quasi nulli controlli sia da parte dell'ente proprietario, l'Ater appunto, o delle forze dell'ordine. L'Aterrata praticamente ogni mese, ogni anno che passa è sempre peggio, perché è sempre più stato di abbandono. Leggiamo ovviamente, anche se siamo noi l'inquilini, leggiamo di furti che si susseguono ogni notte, non solo la ricostruzione ancora al palo, ma addirittura è uno stato pure di abbandono, pure il controllo. Ma su questa situazione avete interpellato l'Aterr, avete chiesto l'aiuto dell'Aterr? Ma questo sono anni ovviamente che questo problema esiste, persiste e quindi è chiaro negli incontri è stato sollevato. Ovviamente è chiaro, poi ci stanno sempre rassicurazioni che finalmente parte questa ricostruzione e quindi magari che dovrebbe in qualche modo risolvere il problema, perché poi sarebbero ovviamente a mettere fuori gli arredamenti, però purtroppo, come sappiamo, l'unico lavoro che era partito via Adamoli, già è fermo. Poi c'è anche il problema dei ritardi clamorosi ovviamente del CAS, ci sono anche in questo caso rassicurazioni di saldi entro la fine dell'anno di questi ritardi di 4-5 mesi assurdi di pagamenti e quindi non ci resta che sperare che fra il dire e il fare, non ci sia di mezzo il mare anche in questa occasione. La pazienza di questi cittadini si è esaurita da tempo, sono 4 anni che attendono gli interventi di ricostruzione e che sono fuori casa. Adesso ci si mettono anche ladri e sciacalli, un Natale davvero tragico. E noi andiamo avanti, torniamo a Pescara questa mattina nel corso di una breve cerimonia. è stata donata da una infermiera ausiliaria dell'ospedale di Pescara al pronto soccorso, una barella in ricordo di Mimmo Grosso, rappresentante della marineria pescarese, scomparso nei mesi scorsi proprio a causa del Covid-19. Vediamo il servizio. Un grande gesto di solidarietà in un periodo difficile come quello attuale a causa della pandemia. Questa mattina infatti presso il piazzale esterno del pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara il dottor Alberto Albani, direttore del Dipartimento di Urgenza ed Emergenza della ASL di Pescara ha ricevuto la donazione di una barella elettrica da parte di Laura Tiberi, infermiera ausiliaria presso lo stesso pronto soccorso del Santo Spirito. La donazione è stata fatta in ricordo del fraterno amico Mimmo Grosso per tanti anni rappresentante e portavoce della marineria pescarese recentemente scomparso, lasciando un grande vuoto in tutte le persone che lo hanno conosciuto. Alla donazione ha presenziato anche la moglie di Grosso, Marina di Vincenzo, alla quale il pronto soccorso di Pescara ha donato una targa ricordo. Anche grazie a questo generoso gesto, il ricordo del signor Mimmo Grosso resterà vivo nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuto e gli utenti del pronto soccorso, ha detto il dottor Albani, si gioveranno così dell'utilissima barella elettrica. Il gruppe del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo ha assolto la LIFE, associazione di assistenza e soccorso, il suo rappresentante legale Emanuele Castellano dall'accusa di truffa aggravata nei confronti dell'ASL di Pescara perché il fatto non sussiste, ricorderete, lo scandalo delle ambulanze. Vediamo il servizio. All'esito di un rito abbreviato che la dottoressa Di Carlo ha ammesso, la LIFE Pescara e il suo legale rappresentante di Castellano Mallo sono stati assolti da un'accusa particolarmente pesante che era quella di truffa ai danni dell'ASL con conseguente arricchimento della LIFE. La vicenda trae spunto da uno esposto anonimo, questo l'abbiamo appurato accedendo al fascicolo del Pubblico Ministero che ha mosso la Guardia di Finanza nell'intento di verificare se vi fossero state ipotesi di sovraffatturazione. Secondo l'ipotesi accusatoria sostanzialmente la LIFE Pescara approfittava dell'ASL di Pescara imputando dei pagamenti per trasporti in realtà mai eseguiti. Questo era in base all'oggetto della contestazione. Lucrando dei guadagni calcolati in circa 40-50 mila euro. Questa era l'ipotesi originale. Noi abbiamo dimostrato, sin dalle prime battute, e poi ne dà atto anche il giudice Di Carlo che appunto le indagini difensive sono state vincente sotto questo profilo, che in realtà tutto si fondava su un equivoco. L'equivoco è consistito nel fatto che nella fatturazione prodotta da LIFE Pescara e per prassi da sempre accettata dal compotente ufficio dell'ASL venivano indicati due numeri di targa. Uno individuante l'ambulanza e uno individuante l'autovettura medica. Ma quel numero di targa individuava semplicemente il tipo di mezzo utilizzato e non anche il mezzo in concreto utilizzato per quel servizio. Questo ha indotto evidentemente in errori gli organi inquirenti che, facendo perfettamente il loro mestiere, hanno ritenuto, errando, che quella stessa autovettura avesse fatto più trasporti nello stesso giorno. Così evidentemente non era e bastava riflettere sul fatto che un'ambulanza non può trasportare se non più di due persone sostanzialmente. Il paziente, chi lo assiste, salvo l'autista ovviamente che conduce il mezzo. All'esito delle indagini difensive questa realtà è emersa e plasticamente la dottoressa Di Carlo ne ha dato una sua sentenza tant'è che assolve perché il fatto non sussiste quindi con la formula più ampia dell'articolo 530 primo comma e lo stesso fa nei confronti della Life Pescara. Ci tengo a dire che la Life Pescara peraltro ha potuto dimostrare nel corso del processo di essersi munita e credo che sia l'unica associazione per quanto mi è noto che l'abbia fatto di un valido modello organizzativo validato ai sensi del 231 e quindi al suo interno ha un sistema per prevenire proprio la commissione di potenziali reati legati sia ai rapporti con la pubblica amministrazione ma sia anche al trasporto dei pazienti dializzati e quindi a tutte le possibili problematiche che va incontro. Con la contestazione ai sensi del 231 il pubblico ministero bene avrebbe potuto chiedere una sinzione interdittiva proprio perché logicamente laddove si ipotizza che un ente commetta dei reati a danno di una pubblica amministrazione ebbene quell'ente può essere messo tra virgolette fuori gioco proprio per prevenire la commissione di futuri reati. Il pubblico ministero avrebbe certamente potuto inibire per un periodo anche di qualche mese proprio l'operatività della Life e questo sia con danno evidentemente per la stessa associazione che avrebbe rischiato il default economico e quindi chiaramente la sua chiusura ma sia con danno anche per i possibili ripercussioni per i pazienti che evidentemente avrebbero dovuto essere poi gestiti in altro modo visto il servizio di pubblica necessità che Life sorge. Ed ora lo sport, allenamento mattutino per il Pescara che sarà impegnato nell'anticipo di venerdì sera ad Ascoli e che stamattina ha presentato il neotecnico Deglio Rossi. La formazione biancazzurra nel pomeriggio parteciperà ai funerali del dottor Ernesto Sabatini scomparso nella giornata di lunedì. Il servizio di Jacopo Forcella. Allenamento mattutino per il Pescara che venerdì sera affronterà l'Ascoli al Cino e Lilo del Duca nell'anticipo della decima giornata di Serie B. Esercitazioni offensive per la formazione del neotecnico Roberto Breda che sta lavorando al 3-5-2 da presentare nelle Marche con Seter che rientra dopo lo stop che non gli ha consentito di essere in campo nelle sfide contro Spalle e Pordenone entrambe perse dal Delfino. Una buona notizia dunque vista la carenza davanti per Breda che non avrà Senzio che ha concluso qui il 2020 e tornerà soltanto ad anno nuovo. Insieme a Seter dunque ci sarà Galano come compagno di reparto mentre dietro sarà Bocchetti al centro della difesa 3 con Jarosinski e Gut a completare il pacchetto arretrato. Probabile dunque la panchina per Scognamiglio così come per Bellanova a destra come quinto perché in quella posizione agirà Balzano. Sulla corsia opposta va ancora scelto l'interprete e sarà uno tra Anzita e Crecco visto che Masciangelo è fuori causa per via della distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti che lo terrà lontano dai campi almeno per altre tre settimane. Antei lavora con il resto della squadra ma non è ancora disponibile mentre in mezzo con Valdifiori e Maestro un altro ballottaggio quello tra Busellato e Memusciai con Fernandez fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato sabato pomeriggio. Dalla parte bianconera sarà squalificato uno degli ex della gara Riccardo Brosco due le giornate rimediate dal difensore dell'Ascoli dopo l'espulsione nei minuti finali del match con il Venezia lo stadio Penso per comportamento scorretto. Rientreranno invece dal turno di stop il centrocampista ex lanciano Marcel Buechel e il difensore Corbo seduta pomeridiana invece per l'Ascoli che stamattina ha presentato l'altro grande ex della partita del Duca Delio Rossi arrivato dopo l'esonero di Valerio Bertotto. ringrazio il Presidente che mi sta dando mi sta dando questa opportunità e stavo a casa il Presidente mi ha chiamato siccome a me piace fare questo mestiere quindi penso che abbiamo trovato l'accordo in cinque minuti per di più vengo in una piazza forse una delle più antiche d'Italia mi sembra una società una società che in un certo qual senso è anche ambiziosa anche se adesso è un momento un po' è un po' particolare però per crescere ci sono anche questi momenti spero di essere all'altezza di tante aspettative da parte mia ce la metterò tutta solo che io penso che le persone non devono essere giudicate in base a quello che uno dice ma da quello che fanno quindi spero che parlino i fatti più che le parole nei momenti di difficoltà secondo me più che i professionisti si vedono gli uomini perché se le cose vanno bene sono capaci tutti ma gli uomini si vedono quando le cose non vanno bene molto probabilmente bisogna fare leggermente magari qualcosa di diverso perché io sono abituato sempre a fare A e A non va bene significa che devo fare una modificata poi arrivare magari a B però gradatamente ecco in questo momento ho avuto grandi disponibilità da parte della squadra dai ragazzi sotto questo punto di vista almeno in questi tre giorni sono incommiabili in questo momento hanno secondo me e abbiamo bisogno di tutti Lega Pro intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Proteramo il presidente di Lega Francesco Ghirelli ha affrontato il tema delle scadenze di dicembre delle società ha parlato del credito d'imposta e della possibilità di una riforma complessiva del calcio italiano bocciando l'idea della Serie B di passare a 21 squadre nel 2021-2022 vediamo mi sembra che complessivamente tiene la Lega Pro nelle ultime giornate è andata migliorando anche la situazione dal punto di vista di Covid-19 domenica è stata la prima domenica dopo alcune alcune settimane le ultime che era in fase di miglioramento si vedeva dai dati domenica non c'è stata nessuna partita rinviata auguriamoci che possa andare avanti avremmo bisogno di un intervento di sostegno da parte del governo e del Parlamento come ha già dichiarato il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori lo stesso dato risulta a me già la stragrande maggioranza della Serie C nel corso di queste settimane e questi mesi ha già pagato quindi rispettando questa scadenza quindi ritengo che non ci dovrebbero essere particolari problemi mi preoccupano alcune società ma questo dipende non solo dalla scadenza ma dalla situazione in generale noi non abbiamo avuto problemi dal punto di vista dei recuperi perché abbiamo programmato tutti i recuperi certo determinano una pesantezza dal punto di vista del calendario però questo è recuperato il nostro problema era vedere come sarebbe andata la curva epidemiologica del Paese e verificare che cosa ne poteva succedere cosa poteva succedere all'interno delle squadre di calcio questa era la preoccupazione se ci fosse stato o se ci dovesse essere perché fin quando non usciremo questo elemento comunque rimane in piedi una situazione dal punto di vista epidemiologico seria allora bisognerebbe pensare che il progetto di riforma deve essere del sistema calcio italiano sino ad ora si è parlato di ipotesi le quali non hanno una grandissima credibilità l'ultima è stata questa vicenda che non credo approderà nemmeno in consiglio federale da parte della serie B su 21 squadre eccetera bisogna che ragioniamo a sistema il calcio italiano ha bisogno rapidamente di andare in forma e prima di tutto noi non partendo dai numeri perché mai dalla mia esperienza che è dal 93 che sono nel calcio mai si è fatta una riforma partendo dai numeri l'unica autoriforma che si è compiuta l'abbiamo fatta noi nell'11-12 applicata nel 14-15 siamo passati da 90 a 60 club io non mi sono arrabbiato per la proposta la proposta non ha una grande chance di esserne discorsa perché se andate a vedere in realtà quella proposta non va a intaccare nemmeno le retrocessioni le promozioni perché parla di tre retrocessioni e di quattro promozioni vuol dire che quest'anno è 21 il prossimo anno è 22 quell'altro dopo è 23 poi 24 25 perché mi sono arrabbiato per il ragionamento che ho fatto prima o si ragiona insieme e non è materia in cui ognuno guarda dal buco della serratura il suo problema oppure per motivi elettorali e si comincia a ragionare veramente a sistema nel calcio italiano o se non il processo di riforma non va avanti il mondo dei dilettanti aggiorna il protocollo anti-covid introducendo i test antigenici rapidi a ridosso degli allenamenti e delle gare di campionato il soggetto positivo andrà isolato e non sarà disponibile mentre il gruppo potrà continuare ad allenarsi il servizio la LND aggiorna il protocollo per il mondo dei dilettanti da ieri sera infatti è ufficiale che anche in serie D ci sarà l'introduzione dei test antigenici e quanto previsto già per il mondo professionistico la commissione medico-scientifica federale ha ritenuto ragionevole e affidabile infatti utilizzare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 in alternativa ai test molecolari e anche i test antigenici quantitativi prevedendo l'inserimento obbligatorio di un test settimanale entro le 48 72 ore antecedenti la disputa della gara per tutto il gruppo squadra individuato dalle società laddove il test rilevi la presenza del virus l'atleta dovrà essere considerato un contagio andrà posto in isolamento o quarantena e non potrà essere in caso la positività derivi da un test antigenico rapido sia il soggetto positivo conclamato che quello debolmente positivo dovrà essere considerato a tutti gli effetti un contagio ed essere sottoposto ad un test molecolare di conferma qualora la società ritenga di porre in atto ulteriori misure di controllo clinico e strumentale potrà attivare in autonomia ogni iniziativa ritenuta utile raccomandato è l'utilizzo almeno iniziale di test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 tutti i componenti il gruppo squadra dovranno comunque compilare almeno settimanalmente ogni qualvolta si verifichi un mutamento dello stato di salute individuale o se ne presenti la necessità l'autocertificazione sul loro stato di salute e su eventuali contatti con soggetti covid positivi intervenuti nei giorni precedenti l'allenamento la gara o comunque l'ingresso presso il campo di gioco di allenamento da far pervenire al medico sociale o al medico addetto al protocollo con la modifica dello stesso la gestione dei casi di accertata positività al virus consente il proseguimento degli allenamenti per i soli componenti del gruppo squadra che non siano positivi in ogni caso è obbligo del medico sociale o del medico addetto al protocollo in caso di positività al test molecolare o antigenico rapido darne immediata comunicazione alla ASL competente per territorio e al medico di medicina generale le persone che pur non presentando più sintomi continuano a risultare positive al test molecolare in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi la gradualità di ritorno dell'atleta agli allenamenti e alle competizioni dovrà essere valutata dal medico sociale del club o dal medico addetto al protocollo in relazione al quadro clinico di riferimento e al contesto e alla durata dell'interruzione dell'attività dovuta alla malattia Il TG6 termina qui grazie per essere stati con noi prossimo appuntamento alle ore 19 buona giornata Grazie a tutti